Pensate che qui ha posato le sue valigie anche Stendhal durante uno dei suoi viaggi in Europa. Siamo all'Isola Bella dove, su iniziativa della famiglia Borromeo, ha riaperto i battenti l'antico ristorante Albergo Delfino. 1791 è uno dei più antichi del territorio e oggi offre un ristorante e due suite. Questo luogo nasce da due esigenze. La prima è quella di mantenere un edificio che stava in realtà abbastanza crollando e mantenere tutto il centro abitato dell'Isola Bella in ordine. In secondo luogo vorremmo che l'isola vivesse di più e quindi creare un altro polo dove la gente può fermarsi, rilassarsi, mangiare un boccone, dormire se vuole. Nella ristrutturazione di questa struttura c'è molto di lei? Sì, io devo dire che mi sono divertita a recuperare i vecchi mobili e cercare cose nuove nei mercatini, oggetti d'arredo e tutto con l'idea di fare un po' più una casa che un tradizionale ristorante. Come avete lavorato per recuperare e restaurare questo edificio? Abbiamo letto la preesistenza, la storia, tutte le testimonianze, abbiamo fatto attenzione a tutti questi segni e abbiamo cercato di recuperarli, di mantenerli vivi e in alcuni casi quando non è stato possibile quantomeno di integrare con nuovi materiali compatibili con quelli storici. Forse la scoperta più interessante è stata la facciata dipinta verso l'ago, è una facciata che è stata dipinta a Trompe Leil, credo nella seconda metà dell'Ottocento, di cui non avevamo nessuna testimonianza, neanche storica, ed è stata scoperta durante i lavori attraverso delle indagini stratigrafiche sugli intonaci. È anche un luogo di memorie diverse, ad esempio qui è stato girato il film di soldati, piccolo mondo antico, c'è una scena proprio all'esterno del delfino. Ed il nome delfino viene citato per la prima volta proprio da Stendhal nel 1828, nella sua guida ai viaggiatori in Italia. Oggi questa storia si continua a respirare nelle rinnovate sale e terrazze che si articolano attorno al ricevimento. Che prevede appunto l'accoglienza da parte degli ospiti delle nostre suite, la nostra suite Hortensia in Infea, eppure l'accoglienza degli ospiti che vengono qui a pranzare o a cenare o a fare anche solo un aperitivo. È una struttura comunque aperta a tutti, quindi aperta non solo per gli ospiti che decidono di pernottare presso di noi, ma anche gli ospiti che si vogliono imbarcare a Stresa o a Baveno e quindi venire a vivere un'esperienza differente. La cucina propone piatti della tradizione italiana con taglio contemporaneo ed è guidata dallo chef Luca Vietti.